Tavolo tecnico questa mattina al Palazzo Zanca, convocato dall'assessore all'ambiente ai nuovi stili di Viltà, Daniele Ialacqua, ordine del giorno lo stato di salute della Fontana Orione e l'appalto per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle fontane storiche ornamentali cittadine. Dopo che le due precedenti convocazioni del 6 febbraio e del 12 marzo scorso, ha sottolineato l'assessore, sono andate a vuoto per l'assenza della sovrintendenza, il tavolo tecnico è stato riconvocato per fare il punto della situazione, visti gli allarmi lanciati alcuni mesi fa sullo stato di salute della Fontana Orione. Definita dallo storico d'arte Bernard Berenson, la più bella fontana del Cinquecento europeo, la complessa struttura che si erge al centro di Piazza Duomo sembra infatti non godere di un buono stato di salute, con crepe evidenti che, secondo gli esperti, potrebbero portare ad imminenti sedimenti strutturali, tanto che è stato necessario sospendere l'erogazione dell'acqua dalla parte superiore della fontana. Le cattive condizioni in cui versa l'opera avevano portato l'11 settembre scorso ad un primo sopralluogo congiunto tra il Comune e la sovrintendenza, alla presenza del Centro regionale per la progettazione e il ristauro. L'incontro di oggi, dichiarato gli all'acqua, è stato inoltre occasione per sbloccare l'iter della gara d'appalto per circa 150.000 euro relativa alla manutenzione delle fontane storiche cittadine. Allo scadere del 2017, il Comune aveva infatti emanato un bando per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei monumenti che in sei mesi di tempo avrebbe dovuto ridare lustro dalle opere disseminate in giro per la città, bando che però era stato sospeso per approfondimenti su richiesta della sovrintendenza.